Mi chiamo Mahmood, sono pakistano, oggi vi preparo un piatto che si chiama murgplaw. Si versa il riso basmati in una ciotola con dell'acqua per 15-20 minuti, per ammorbidirlo. Poi si fanno bollire le patate tagliate a metà per 15 minuti. Si riscalda l'olio di semi in una pentola e quando l'olio è caldo si aggiungono le cipolle finemente tritate. Quando le cipolle sono dorate si aggiungono lo zenzero e il pomodoro tagliuzzato. Si lascia cuocere finché il pomodoro diventa una polpa, poi si versano il peperoncino a fettine, un cucchiaino di pepe nero macinato e due cucchiaini di sale. Si aggiunge il pollo precedentemente tagliato a pezzi, si mescola, si copre e si lascia cuocere per circa 20 minuti. Versare circa mezzo litro d'acqua, portare ad ebollizione e dopo un paio di minuti aggiungere pepe nero intero, chiodi di garofano e cannella. Dopo aver tolto il riso ammorbidito dall'acqua lo si mette nella pentola e lo si lascia bollire finché l'acqua non viene completamente assorbita. Poi si avvolge il coperchio con un panno, lo si riposiziona sulla pentola, si abbassa il fuoco al minimo e si prolunga la cottura per alcuni minuti. Per la preparazione della salsa sminuzzare un pomodoro, tre foglie di insalata, una cipolla e il peperoncino. Versare lo yogurt in una ciotola, aggiungere la verdura, mescolare e salare a piacere. Buon appetito! Grazie!